Ciao a tutti e ben ritornati sul mio canale per una nuovissima Top 5, questa volta parleremo di mosse di sottomissione, ovvero una parte integrante del Pro Wrestling che secondo me sono una chicca veramente intrigante quando si tratta di concludere una contesa, le trovo molto affascinanti, perché ok gli schienamenti o i quasi tre sono certamente da pelle d'oca, però anche una bella sottomissione a centro ring con quello che la subisce che cerca di raggiungere le corde, oppure una sleeper hold quando l'arbitro ti fa cadere il braccio per vedere se sei privo di sensi, mi fa sempre rizzare i peli del corpo. Quindi in seguito ad un sondaggio su Instagram ho deciso di ascoltare il vostro parere, seguitemi su Instagram perché d'ora in avanti penso di fare sondaggi per vedere quale Top 5 vi intriga di più e prendere spunto anche da voi. Volevo ringraziare per l'appunto Francesco per avermi suggerito questa qui. Ma attenzione non voglio parlare di spettacolarità della manovra, coreografie ed altro, voglio trasportare una manovra di sottomissione vista nel mondo della WWE nel mondo reale. Cioè no, non è che voglio farla, l'ho detto malissimo. Dai ricapitolando, quelle che secondo me, se fatte realmente, fanno un male cane, ma proprio porco, ma proprio l'inchiostro col nome dei santi si scolla dal calendario e casca giù da quanto ti fa vedere le stelle se applicata nella maniera corretta. Ma allora bando alle ciance, stringete forte l'articolazione del vostro avversario, non mollate la presa finché non batte tre volte quella manina al tappeto e allacciate le cinture perché... Fuochefiamma amici, io sono il vostro Certified Why e queste sono le 5 sottomissioni più dolorose del wrestling. Numero 5, ankle lock. Potrebbe sembrarvi strano perché semplicemente è un piedino che gira in mezzo a un braccione muscoloso, ok, però non so se vi è mai capitato di subire una distorsione alla caviglia o un trauma comunque quando appoggiate male il piede e vi si gira e diventa gonfio come un melone. Quante divinità tirate giù in quel momento? E soprattutto è una cosa che vi impedisce di camminare per diverso tempo, quindi immagino che una ankle lock con la giusta potenza potrebbe stracciarti tutti i legamenti del piede e farlo penzolare come un salmone che risale la corrente mentre un grizzly è pronto a prenderlo al volo e mangiarselo. Sicuramente Cortengole ha portato questa mossa ad un altro livello, sia come spettacolarità che come credibilità. Mi ricordo i momenti in cui voleva solamente spezzare le caviglie dei suoi avversari dopo essersi spogliato delle sue spalline a stelle strisce. Poi ne abbiamo visto altre versioni come quella di Jack Swogger per esempio, ma mai come quella del pelatone, che poi come se non bastasse dopo aver giocato a ping pong col malleolo del suo rivale si avvinghiava la gamba come una piora, strizzandola anche con i suoi quadricipiti tutti sudati. È un'immagine terribile ma assolutamente devastante. Numero 4. Le Walls of Jericho o Double Leg Boston Crab. La mossa caratteristica di Y2J fa male solo a guardarla, immaginate il culone di qualcuno poggiato sulla vostra schiena mentre vi tira le gambe e vi allunga come Mr. Fantastic dei Fantastici 4. Bene non fa la vostra colonna vertebrale, ve lo assicuro. Probabilmente dopo averla subita avrete la spina dorsale arrotolata come la coda di un camaleonte. E non sono sicuro di questa mia ultima affermazione. Tra l'altro questa mossa l'ho inserita in un vecchio video, non troppo vecchio, di mosse WWE trasportate nelle UFC o nelle arti marzialimiste. Qualcuno l'ha fatto veramente e l'avversario ha ceduto. E grazie al CA c'è anche una leggenda che narra di una prova sostenuta dagli allievi nei dojo giapponesi per wrestler, per l'appunto, che è quella di subirla realmente e quando si riuscirà a contrastare la manovra e ad uscirne si verrà considerati abbastanza valorosi per intraprendere la carriera da professionista. Non andrò mai in Giappone se mai volessi diventare un wrestler e me lo segno sull'agenda. Numero 3. La sharpshooter. Ok, prendete tutto ciò che ho detto prima e unitelo. Ha delle gambe incrociate ad una tensione anche sui tendini rotulei che vi si sfilaccerebbero. Come le rotelle gommose e super zuccherate che vi cariano i denti e ve li corrodono come l'acido che ha sciolto il Joker. Cioè, non solo deve fare un male cane se eseguita per bene, ma è anche spettacolare in una maniera incredibile. Cioè, pensate a The Rock, a Bretta Harta, a Chris Ben... a un canadese che non è mai esistito e ha vinto un main eventi for Estelmania. Cioè, quanto era bello quando prendevano le gambe del loro avversario, le allargavano, questo suona malissimo, ci ficcavano una gamba in mezzo e li legavano come i vostri lacci delle Nike per off-white da 60.000 euro. Clamoroso. Come ho detto prima, il concetto è molto simile a quello delle Walls of Jericho, perché comunque ci si siede sulla schiena dell'avversario e si tirano le gambe. Il problema è che queste sono incrociate e già pensare alla mia tibia che spappola il mio polpaccio, ci spinge contro, mi fa male, crampo, mi si è accavallato tutto. E tra l'altro rimarrà iconica quella di Shawn Michaels ad anni di Bretta Harta durante lo screwjob di Montreal. Incredibile, sono riuscito a ficcarlo pure qui, mi ha rotto le palle quell'evento. Numero 2, la Hell's Gate. Vi chiederete perché la medaglia d'argento se la porta a casa questa mossa di The Undertaker? Beh, si chiama Il Cancello dell'Inferno, vedete voi, non vi convince già questo? La manovra comunque è una sottomissione esistente nelle arti marziali, è una gogoplata leggermente modificata per l'occasione ed è stata una delle mosse più temibili del becchino dal 2008 in poi. Tanto da venire bannata, in storyline ovviamente, nel 2009 dalla general manager di SmackDown, Vicky Guerrero. Non solo era letale e spettacolare, ma era anche velocissima da applicare. Ha anche salvato la streak del Deadman durante il match contro Triple H of WrestleMania. Stinco sotto la gola, mani dietro la nuca, etrachea, tiroide, pomo da damo, tutto in briciole e in frantumi, scusate non ho idea di come sia l'anatomia di una gola, ma so solo che farebbe un male cane subirla, soprattutto da un uomo di 2 metri 10 per 150 kg. E come se non bastasse vi ficcava anche un braccio tra le sue chiappe e lo strizzava, come un panno sudato. Già la sensazione è terribile, ma anche il dolore subito penso che non sia da meno. Per le menzioni degne di nota possiamo inserire la figure 4 leglock, leggendaria mossa di Ric Flair e ora di The Miz, perché anche lì si divertiva a giocare a hockey coi vostri menischi, usando le rotule come dischetto. Ho ancora la masterlock, questa mi divertivo tantissimo a farla da piccolo, mi raccomando non provateci a casa ma è bellissima. Cioè comprimere le spalle così tanto da fargliele entrare nelle orecchie praticamente. Senza scordarci dell'Anaconda Vice di CM Punk, dell'Arbar di Ronda Rousey, dell'Hazka Locke, della Kiri Fuda di Shayna Basner, ce ne sono veramente tante. Però bando alle ciance perché la medaglia d'oro se la giudica proprio lei. Numero 1. Crippler Crossface. C'è qualcosa da dire? E non dico Lebel Locke o Bank State Hitman o altro. Crippler Crossface. Fatta da Chris Benoit. L'ho nominato. Ok, fa schifo ciò che ha fatto, siamo tutti d'accordo, è un assassino, poi ci sono le teorie del complotto a cui non credo, ma vabbè. Ma è inutile rimuoverlo dalla storia del wrestling perché sul ring è stata una leggenda incredibile, forse uno dei migliori performer di sempre e mamma mia la sua mossa finale mi faceva scacazzare addosso solo a vederlo. Cioè le sue urla, tutto sdentato, mentre ti tirava il collo e ti arrotolava come un calzino da buttare in lavatrice. C'era proprio la follia nei suoi occhi, è brutto dirlo, sono le parole più sbagliate del mondo, ma parlo in storyline nel quadrato nel mondo del wrestling, chiaramente. Cioè era proprio una mossa da animale, selvaggio, il braccio tra le sue gambe tutto contorto, una mano che stringe il suo polso attorno alla tua gola e poi ti tirava così forte che ti costringeva a guardare ogni singolo riflettore sul tetto dell'edificio in cui ti trovavi. Era veramente qualcosa di pazzesco vederla eseguita. Voi cosa avreste inserito in classifica? Lo so, la STFU, lo so. Ma vabbè, fatemelo sapere qui sotto nei commenti e noi come al solito ci sentiamo presto con un'altra top 5, grazie a tutti per essere passati. Vi invito nuovamente a seguirmi sui social, a mettere like, a commentare il video, bla 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 bla, sapete già tutto voi. E noi ci risentiamo presto con una nuova top 5 o un nuovo approfondimento. Grazie mille a tutti! Dal vostro Certified Why si conclude qui anche oggi questo episodio. Ciao! Ciao!